Il vaccino anti-covid-19 Pfizer non è stato testato per fermare i contagi. Non è una rivelazione giornalistica, ma l'ammissione di Janine Small, responsabile per i mercati internazionali della multinazionale farmaceutica. Il vaccino anti-covid Pfizer non è stato testato per prevenire l'infezione, anche perché nessuno ce l'ha chiesto e in ogni caso non c'era tempo. Sono le testuali parole pronunciate da Janine Small nel corso dell'audizione tenuta lunedì 10 ottobre al Parlamento europeo. Parole forti che stanno scatenando tantissime polemiche.